Alleluia, 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 Alleluia Monsignore, per lei quest'anno è la prima occasione che ha di ricordare il Tridu insieme alla popolazione di Clusone una realtà importante per quanto riguarda tutta la diocesi e soprattutto quanto riguarda il nostro vicariato Per me, come si diceva, è la prima volta che vivo questa esperienza è stata sicuramente una sorpresa il vedere una partecipazione da parte di tutta la gente proprio a una celebrazione che vedo e sentita questo dimostra sicuramente una grande devozione, un grande affetto nei confronti dei defunti ma anche segno di una fede profonda, radicata, che continua a esserci nel cuore delle persone certamente le varie celebrazioni che sono succedute, al di là del fatto così esteriore, molto bello, molto solenne indicano davvero un desiderio di vivere profondamente quelli che sono i misteri fondamentali della nostra fede, della nostra vita cristiana e quindi quello di riscoprire quello che è il fondamento del nostro vivere appunto la fede in Gesù Cristo e il Triduo è sicuramente una tappa importante in questo cammino che la nostra comunità cristiana sta compiendo proprio per cercare di riscoprire la fede come dice anche il programma pastorale di quest'anno che parla dei discepoli di Emmaus si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero mi auguro davvero che questa esperienza del Triduo possa diventare un momento nel quale i nostri occhi si aprono un po' di più per incontrare il Signore Il culto dei morti, soprattutto nella comunità clusionese, è abbastanza radicato se pensiamo che c'è addirittura una confraternita che porta avanti questo messaggio abbiamo un dipinto eccezionale Anche questo, diciamo, pur così venendo da tanti anni questa è la presenza di questa congregazione indica però il radicamento profondo di una riconoscenza di un affetto nei confronti delle persone che non sono più tra noi e che hanno lasciato in mezzo a noi una grande traccia della loro fede e dunque il culto, diciamo, nei confronti delle persone si manifesta veramente in tanti atteggiamenti e in tante celebrazioni e mi auguro che possa così continuare sia come doveroso omaggio ai nostri morti sia anche come un richiamo perenne a quelle realtà verso le quali siamo incamminate nella fede la realtà della vita eterna nella quale Cristo ci attende e di cui queste celebrazioni anche così questo apparato del Santo Triduo vogliono essere un anticipo